eccola qua adesso sta sul mio banchetto di lavoro così ci posso lavorare bene e continuare il restauro quei buchi che si vedono sul fondo sarebbero quelli che praticamente quando gli oper hanno troppi gettoni quelli in eccesso cadevano di sotto nel mobile di sotto e andavano in cassa adesso volendo essere pignoli li si potrebbe chiudere però per un uso casalingo non c'è neanche bisogno anche perché i gettoni che ho non sono troppi ci stanno tutti dentro gli oper quindi non andranno mai in eccesso e quindi per adesso la tengo così poi si vedrà